Seconda parte di Siamo Italiani, abbiamo un nuovo argomento e nuovi ospiti, nello specifico saluto a Quattarosa, ritroviamo Ilaria Ameli, stacifica Fontana Presidente, buonasera e benvenuta. Buonasera a voi, benvenuta a Quattarosa, un po' meno, io credo nelle donne attive e coraggiose. E ci piace questo spirito. Spero che piaccia anche a Stefano Malerba, Obiettivo Lombardia per le Autonomie, buonasera e benvenuto anche a lei. A questo punto noi parlavamo di industria e di fiducia degli italiani rispetto al governo, il problema è legato fondamentalmente alla crisi, la crisi che appunto sta passando in qualche modo, che abbiamo subito e stiamo subendo, ma speriamo in qualche modo possa migliorare. Il problema qual è? Che lascia sempre però poveri e disoccupati la crisi. Infatti sono quasi 5 milioni di italiani che continuano appunto a vivere in condizioni di estrema povertà. Il problema è lo Stato che in qualche modo pensa con difficoltà al sociale o perlomeno meno di quanto dovrebbe. Così alcuni si domandano, ma perché non fare come per esempio in Germania? Adesso facciamo una piccola provocazione. Per esempio in Germania appunto si sono in qualche modo messi ad aiutare soltanto i tedeschi. Andiamo subito, prima di leggere appunto poi la notizia legata alla Germania, vogliamo capire che cosa funziona e che cosa non funziona in Italia. E in questo senso sentiamo cosa ci dicono gli italiani nel servizio di Elisabetta Ferri. Cosa non funziona in Lombardia? Ci sono molte cose che non funzionano in Lombardia. Io mi occupo di sanità, quindi sicuramente le risorse nella sanità sono veramente mal distribuite e gestite in modo pessimo. Cioè ci sono scarsissime risorse, c'è uno scarso investimento. Tutto non funziona. Gli Enbunda fa niente, parlano e basta. Io sono l'omellino, abbiamo delle strade che fanno schifo come loro. Si parla solo e totalmente di politica, ma nulla della singola persona per i suoi fatti personali. E in generale per me non va nulla. Nulla che loro possano, cioè vogliano affrontare. Non è tanto un discorso di Lombardia, Lombardia, è un discorso probabilmente d'Italia. Io sono un pensionato e vedo che sono tra i più tattassati che ci sono. La sanità perché comunque i tempi di atteso sono abbastanza lunghi e che non funzionano i trasporti a volte. Le strade, le nostre strade, soprattutto nella zona dove abito io, sono in condizioni pessime. Non si affrontano realmente i fatti perché ci sono tante persone che soffrono. Soffrono nel senso che non hanno più la certezza di poter tenere un riscaldamento per riscaldarsi, non hanno più la certezza di mangiare quello che possono. Non vanno a fondo di queste situazioni che vivono 15 milioni di italiani. L'immigrazione clandestina prima di tutto perché vediamo tanti che sono disperati e vedere che rubano i portafogli alle vecchiette via di questo passo non è una bella cosa. L'ordine e la sicurezza. La sicurezza per me è la cosa principale perché avendo un'età diciamo ci sentiamo un po' abbandonati. Loro, tra l'altro, fanno valere molto il fatto di essere musulmani e ti arrivano qua, ti appendono il Corano a banco con canzoni alto volume che noi non capiamo niente, tutto il Corano, non lo so che cos'è, che lingua. E quando non lavorano, che vedono che qualcuno non ci va, addirittura li trattano male, ti mandano a quel paese. Io con 600 euro ammissi di pensione riesco a vivere? Fai fatica. Oggi si mangia e domanda non si mangia. Si sattefatti, si va alla carta a mangiare. Vedo a che punto siamo arrivati noi, italiane. Se avessero davanti a lei adesso un candidato, cosa le chiederebbe? Di occuparsi dei giovani, perché i giovani sono del futuro. Per quanto riguarda la manutenzione stradale c'è molto da fare, questo sicuramente è il punto più importante. Vi chiederei la sicurezza, questa è la cosa principale, cioè tutti questi estracomunitari che sono qui allo sbando non mi piacciono. Lei è sicuro della sua scelta, di non andare a votare? Non solo io, anche i miei amici non voteranno. Tanti temi toccati dai nostri cittadini, tasse, migrazione, ordine, sicurezza, giovani, pensione, anche il manto stradale. Io ovviamente vivo a Milano. Milano è una città in cui funziona tutto più o meno abbastanza bene, ma si vede che intorno alla città in qualche modo invece le problematiche per quanto riguarda i manti stradali rimangono e restano perché se già due o tre persone nel servizio l'hanno citato vuol dire che c'è un problema. Qui abbiamo comunque due rappresentanti per quanto riguarda la campagna elettorale per le regionali per cui abbiamo le persone giuste per poter rispondere. Voglio partire da, a me, tanti punti toccati. Quali sono secondo lei i due che possono essere risolti più velocemente, se così si può dire? Guardi, io devo dire che sono sempre stata tra la gente in questa campagna elettorale e quello che mi ha veramente fatto più male è vedere dei nuovi poveri, cioè nel senso delle persone che hanno perso, pur facendo, lottando incredibilmente, perso totalmente il loro lavoro ma soprattutto il lavoro che davano tante famiglie. Quindi ho visto tanti, tanti imprenditori chiudere le piccole e medie imprese. Stamattina ero in API, appunto l'associazione delle piccole imprese e ancora una volta le denunce che facevano era Ilaria ci sentiamo strozzare, sei candidata, ti chiediamo cosa pensi di fare. Allora, io sono molto onesta, non è che ci sia una ricetta velocissima, però ritengo che innanzitutto vedendo queste realtà, cioè realtà che davano lavoro a più persone, vederle chiudere ti fa male perché sono persone che poi vengono lasciate a casa oltre all'imprenditore stesso. Quindi sicuramente per me abbassare le tasse, quindi sposare la flat tax è un primo passo molto importante, cioè dare un po' di ampio respiro, che sia il 15, che sia il 20, che sia il 23, a me interessa dare una possibilità, una speranza. E abbiamo fatto dei calcoli e sicuramente pagherebbero le tasse tutti perché ponendo una tassazione migliore avremmo anche modo innanzitutto poi di riavviare le aziende e dare anche più possibilità a questi giovani che escono giustamente dall'ambiente o del liceo, della scuola, degli istituti professionali, avendo un lavoro a cui avviarsi perché chiaramente col Presidente Fontana abbiamo deciso di creare degli sgravi fiscali, soprattutto guardare, abbiamo guardato tanto alla piccola e medio impresa. Non dimentico, le altre famiglie, sentivo prima tanti con lo stesso coro, prima gli italiani. Io la sposo, dico prima gli italiani, prima i lombardi, qua siamo in Lombardia, ma dico prima gli italiani, nel senso che l'italiano ha una sua dignità e spesso non chiede. Per cui nel prima gli italiani e nel futuro pensiamo i giovani. Una delle mie priorità sia nel programma di Ilaria, ma quindi del Presidente Fontana, è di pensare ai giovani, ma ai giovani che non riescono a costruire un futuro e neanche una famiglia. Quindi gli asili nido gratis, gli asili nido anche aziendali, quindi una Lombardia che penserà a dare anche degli incentivi alle aziende che faranno... A piccole e medie imprese e ai giovani per quanto riguarda per esempio la situazione. Ai giovani e poi sicuramente agli italiani che stanno male. Cioè io non posso più vedere, e a San Donato ne è una realtà dove abito, ogni mattina vedere un ragazzo, e questo Gori lo sposa, vedere un ragazzone grande e grosso arrivato che si mette lì a chiederle lemosina. Ecco, io non accetto più questo e le dirò di più. Ilaria si impegna, e l'ha detto pubblicamente, a versare 1.500 euro, se sarò eletta, del mio stipendio a coloro che purtroppo hanno perso il lavoro nella piccola e media impresa e oggi sono delle persone che vanno all'Opera San Francesco a prendere il pane. Vanno la dignità di non chiederle lemosina e ti chiedono, io Ilaria faccio qualsiasi tipo di lavoro. A me sono disponibile. Questo è bello sentirlo dire da un candidato. Non stare però, sì, non è un grillinismo, è una cosa che ho toccato con mano e stiamo mettendo appunto la maniera in cui donarli questi soldi, che verranno donati da me, perché personalmente lo farò e l'ho detto. Per dare una mano non si cambia il mondo con le mie 1.500 euro. No, quello no, ma è un segnale che è giusto in qualche modo dare. Però per me è un segnale perché saremmo troppo egoisti. Voglio sentire da Malerba appunto invece per quanto riguarda ciò che è stato citato a me e in generale quello che è stato, i problemi sollevati dai cittadini italiani, quale si può mettere prima alla testa? Non ho capito cosa sposa Gori sulla... Dice che gli immigrati assolutamente devono essere mantenuti, clandestini va bene, e la gente che non... No, mantenuti, li mantiene d'altronde... Dice che l'immigrazione tanto ne parleremo dopo, quindi stiamo sugli altri temi e poi ci... Lui sposa questa cosa perché gliel'ho chiesto anche personalmente a San Donato, gli ho detto ma non si può fare qualcosa? Un flash su questo giusto per giustamente rispondere immediatamente, poi parliamo in maniera più compiuta dell'immigrazione. E anche Gori, le persone che stanno lì di fronte a chiedere l'elemosina con vecchiette che le dico, a me fa male vedere che ogni giorno c'è la vecchietta che non riesce e mangia pane e latte la stessa. Ma fa male credo vedere qualsiasi persona che non riesce a trovare il sostentamento... Ma non è grande e grossi che chiedono l'elemosina, facciano, lavorino. Fa male a tutti, fa male per chiunque, fa male indipendentemente dal colore della pelle o dal paese di provenienza, fa male a vedere chiunque non riesce ad arrivare a sera, fa male per gli italiani e fa male per gli altri, sì, fa male per tutti. Il problema vero che esce da quello che abbiamo sentito, è un problema che riguarda fondamentalmente la sicurezza. Troppo spesso il tema della sicurezza viene affrontato come se fosse solo un problema di immigrazione. Nella realtà il problema della sicurezza è un problema più complesso, è un problema che riguarda una situazione di noi tutti, ma non è solo un problema legato all'immigrazione. Questo credo che sia un paradigma che è stato creato, ma che non ha senso. Il problema migrazione è un problema che va sicuramente controllato, va sicuramente governato in una maniera diversa. Dobbiamo parlare una testa, se no facciamo fatica. Volevo far riuscire dall'immigrazione perché poi avremo dei cartelli di dati, per cui poi ci entriamo a gamba tesa. Invece pensioni, giovani, ordine di sicurezza, tasse. Il problema è vero è quello sulla sicurezza e sulla sicurezza io credo che vada fatto uno sforzo importante per riuscire a garantire a tutti maggiore sicurezza. L'altro aspetto fondamentale è quello dei giovani, è vero. Le persone che erano a rischio e marginazione fino agli anni per crisi erano gli over 65. Oggi chi è a rischio e marginazione sono gli under 35. È cambiato il mondo e sta cambiando a una velocità che difficilmente la politica riesce a governare. La politica arriva sempre dopo in questo momento, non riesce a governare i processi di cambiamento. Oggi i giovani sono le persone che hanno realmente più problemi e sono più ai margini della società. Però io credo che quello possa passare solo da una formazione, da due aspetti. Dalla formazione, cioè riuscire a far incontrare il mondo e la domanda del mondo del lavoro con l'offerta del mondo della formazione. E' un passaggio difficile, ma è un passaggio fondamentale per riuscire a mettere insieme questi due mondi. E l'altro aspetto è un aspetto culturale. Sicuramente la cultura che in questo paese è sempre stata considerata un aspetto, un costo. La cultura è uno dei... Il più ultimamente è stato considerato come un costo, anche in un periodo di crisi, anche forse giusto alle volte. Purtroppo sì, credo che invece sia un fattore fondamentale per prevenire fenomeni di emarginazione sociale. Questi due sono i due aspetti fondamentali, a mio giudizio, su cui bisogna lavorare per riuscire di nuovo a riportare i giovani all'interno di una società e a farli avere un futuro migliore. Visto che avete tirato in ballo, e poi ovviamente a me nel caso può citare, replicare nel caso ovviamente si è segnata tutto. No, volevo a questo punto, siccome c'è una notizia riguardo alle immigrazioni in questo caso, a questo punto, visto che l'abbiamo citata, entriamo a parlarne. La mensa dei poveri solo a chi ha passaporto tedesco, polemica Essen, questo è il titolo del globalist.it. Cosa significa? Prima i tedeschi, ovvero sia i gestori della mensa dei poveri sono visti costretti a servire solo clienti con documenti tedeschi. Ovviamente ciò ha fatto scaturire una serie di polemiche all'interno del paese, voglio sapere entrambe che cosa ne pensate, una cosa giusta o non giusta. Le posizioni erano chiare sin dall'inizio, però un commento a questo punto più concreto su questa tipologia di situazione, che è molto particolare sicuramente. Assolutamente, parto però da due secondi prima, quando diceva questa grande crisi, giustamente, questa grande crisi arriva però da una politica che ci ha portato a questa grande crisi, perché io quando vado e sento mi si dice stiamo peggio di 5-6 anni fa, no? Quindi queste tasse che ci hanno ammazzato sono le tasse purtroppo del governo Renzi, non del governo che mi appartiene, cioè dei governi di Renzi e prima di Renzi, di un governo di centro-sinistra, a cui afferisce chiaramente l'amico Stefano, che fa parte della coalizione di sinistra. Quindi non è che ci dobbiamo immaginare una nuova formazione per i giovani, chissà quale sogno dobbiamo donare a questi giovani. Dobbiamo essere molto concreti e così anche per gli italiani, perché se tu non hai più risorse per te stesso, forse perché ci hanno ammazzato un po' troppo, senza guardare veramente a quella che poteva essere invece un fenomeno di industrializzazione importante, l'industria 4.0, ma se poi non la fai ripartire realmente e continui a ammazzare gli imprenditori senza dargli delle opportunità, come governo hai fallito. Un'altra opportunità per i giovani, e vengo invece alla tristezza, perché i giovani oggi sono i padri divorziati, i giovani rimasti senza lavoro da un giorno all'altro, ci sono anche dei purtroppo cari amici, devono recarsi a chiedere questi pasti. Allora, io sono d'accordo che bisogna avere adesso il passaporto forse eccessivo, però ci ricordiamo che noi stiamo dando alloggio, e oggi fa un freddo terribile, immagini i nostri poveri terremotati nelle casette che non sono ancora state fatte, non sono state ancora pianificate bene, cioè quindi in strutture che non chiamiamo le case o casette perché non sarebbe giusto, ma a volte nelle tende perché il governo ha preferito i non italiani, cioè non privilegiare gli italiani rimasti vittime di un terremoto che sono ancora al freddo e al gelo, ma privilegiare i non italiani. Allora io dico, se l'italiano non ce la fa, perché non aiutare prima, cioè come una mamma che aiuta prima i propri figli, prima di andare fuori ad aiutare i figli degli altri, soprattutto se i figli degli altri, attenzione, non hanno rispetto, perché noi li accogliamo, questi migrati, questi clandestini, però io ho visto il cardimineo, ho visto altre strutture, perché sono una persona che vuole capire le cose e quando ti vedi buttare un piatto di pasta, buttare, ma anche solo a San Donato, facendo un esempio molto concreto, no non voglio, ti buttano il panino a terra, cioè allora hai fame o chiedi l'elemosina? Allora chiedi l'elemosina e hai sbagliato, per cui io le dico che secondo me privilegiare anche nel dare qualcosa in più immensa agli italiani forse in questo caso è giusto. Volevo sentire da Malabra che cosa ne pensa, ha toccato diversi punti, dal questione tasse e crisi alla questione legata appunto un po' al lavoro, al fatto che sia giusto in questo caso aiutare prima i tedeschi o gli italiani rispetto a chi viene da... Ma meno male in Italia abbiamo strutture che sono quelle del terzo settore che si occupano fondamentalmente della distribuzione dei pasti che sono in grado di riuscire a sfamare tutti. Meno male c'è una legge che è la legge Gadda, stata approvata da questo Parlamento e da questo Governo, non da altri, non in precedenza, che è quella sullo spreco alimentare che ha messo tutte le associazioni del terzo settore nella possibilità di riuscire a soddisfare la domanda di tutte le persone che hanno. Teniamo conto che in Italia... Anche di chi getta i pasti li abbiamo visti. Guardi, io devo parlarvi di un'esperienza personale in questo caso. una squadra che è stata creata a Varese di rugby, di richiedenti asilo, sono 40 ragazzi che stanno venendo, me ne occupo, quindi faccio qualcosa di concreto. Non è mai capitato che nessuno di questi abbia buttato un panino per terra. Beh, è viva perché gli stiamo dando da mangiare in mano. Capita che questi signori puliscano lo spogliatoio e facciano i lavori al campo quando hanno finito di giocare. E' che abbia altro. Perfetto, questa è una forma concreta di integrare la gente, senza populismi e senza... Perfetto, per cui, vi assicuro che di questi 40 ragazzi nessuno ha mai buttato un panino per terra. Scusi, nei nostri alberghi, non dove, posso fare anche degli esempi concreti, in Sicilia, da San Dorato... Responsabilizziamoli e facciamoli stare... Se no, non abbiamo capito niente della politica. Non abbiamo... Ok, perfetto. Sto portando la pagnotta. Perfetto, allora, proviamo a farlo con dei gesti concreti. Gesto più concreto di quello fatto da Ilaria Mee, ha fatto un progetto... A me il panino per terra non l'ha mai buttato nessuno. Eh, fortunato, io ho fatto un progetto autotassandoci a San Donato, ci potevamo autotassare di un euro pagando l'assicurazione a queste persone che chiedono l'elemosina. Le spiego. Perché se no, loro non potrebbero teoricamente lavorare, e c'è nel senso perché non hanno un'assicurazione, se uno cade si fa male. Quindi ho detto, benissimo, mi autotasso, io cittadino, vi pago l'assicurazione, ma lavorate, loro non ci stanno. Allora, questo è uno specifico, abbiamo sentito due diverse esperienze, due diverse esperienze personali e ci sono... Anche la mia, su 40 persone ce ne sono 5 che hanno trovato lavoro. No, no, è certo. Allora, fatemi fare, fatemi fare però... Fatemi fare però il mio lavoro, a questo punto... Più che altro, almeno, giustificare i soldi. No, a parte gli scherzi perché il tema è molto sentito, è molto importante e le situazioni sono quelle. Assolutamente, ma tanto poi ci rientriamo. Devo fare un piccolo spazio pubblicitario, poi rientriamo e continuiamo con la discussione. A tra poco. Il problema dell'immigrazione di cui stavamo parlando e di cui torneremo poi a parlare, ovviamente il problema è legato anche al fatto che ci sono un sacco di persone, come abbiamo citato prima il numero, che sono sulla soglia di estrema povertà. Nello specifico, secondo l'Istat, gli italiani, che appunto si trovano in povertà assoluta, sono 4 milioni e 720 mila, quindi 1 milione e 600 mila famiglie. Per loro, dal governo, è stato messo a disposizione il REI, appunto il reddito di cittadinanza, per i quali nel 2018 saranno spesi 2,55 miliardi di euro, nel 2019 saranno 2,75 miliardi. Voglio partire da me. Basterà come misura? Ci sono altre misure? L'abbassamento delle tasse, quella magari è un'altra, ma giusto per capire... Io credo che vada affiancato molto di più il tema della ripresa degli istituti professionali, sicuramente all'ambito dell'impresa e dell'azienda. Cioè, dobbiamo avere anche ragazzi più preparati a determinati tipi di lavoro e che escano giustamente dalle scuole più qualificati e più pronti. A tal proposito, devo dire che in Regione Lombardia abbiamo già fatto tanto e direi che è da prendere come esempio buono. La Dote Lavoro ha dato modo di creare uno sportello, offerta, domanda, dove si sono incontrate queste realtà. Quindi in Regione Lombardia sicuramente abbiamo, per i giovani, perché si parlava appunto di giovani, un'ottima opportunità. E soprattutto Dote Lavoro significa anche riqualificare coloro che purtroppo hanno perso il lavoro a 50 anni, insomma, in quell'età di mezzo in cui poi è difficile dare una riqualificazione. Loro si occupano di dare una seconda opportunità a queste persone e vengono reinserite in ambiti diversi, a volte nell'assistenza sociale. Il mondo chiaramente della disabilità, lei sa che purtroppo è in continuamento anche in Regione e il recupero. Quindi queste sono delle risorse che secondo me vanno impiegate. È chiaro che purtroppo dobbiamo un po' adattarci, c'è una questione di adattamento dovuta purtroppo al cambiamento. In tutti i cambiamenti la popolazione si è sempre adattata, anche nelle diverse fasi storiche, e credo che forse da questo punto di vista dobbiamo guardare un po' anche oltreoceano all'abitudine che forse c'è un po' più in America e in altre realtà, dove si dice, appunto partendo dal presupposto del mercato, da quello che sentivamo, la possibilità di accesso a diverse categorie lavorative e a diversi lavori. Un giudice invece tagliato con l'accetta sul reddito di inclusione? Ma guardi, io credo... Giusto per avere un'idea se le piace o se non le piace, indipendentemente che magari non è abbastanza, capire se trova qualche problema specifico su questa manovra. Ma guardi, io non l'ho capita benissimo come manovra, non mi piace moltissimo perché tutto ciò che non viene spiegato bene e rientra in una fase molto concreta non lo sposo. Io dico quello che abbiamo visto fare, ripeto, e basta vedere Regione Lombardia, che è un esempio virtuoso, certe realtà le abbiamo portate avanti. C'è un decreto legge che è il 147 del 15 di settembre del 2017 che spiega che cos'è il reddito di inclusione. Io specifico per esempio, giusto per conto rimbalzo la domanda a Malerba sul reddito di inclusione, che è stato messo miliardi di soldi che sono stati inseriti in questa manovra, è abbastanza, basterà? Che cosa si può fare di meglio? È un aiuto, è sicuramente un aiuto, è un aiuto importante. Teniamo conto che come lei diceva, i numeri della gente che è sotto la soglia delle persone, sotto la soglia di povertà, è altissimo. Il 30% circa, sempre lo studio a cui si riferiva lei dell'Istat, stima che della popolazione sia a rischio povertà. In Lombardia i numeri del Banco Alimentare, sempre sul 2016, parlano di 670 persone sotto la soglia di povertà, in incremento di 100.000 unità rispetto all'anno precedente e dal 2008 a oggi l'incremento è stato del 60%. Io credo che questi non siano dati di una regione virtuosa, questi sono dati preoccupanti per una regione come la Lombardia. La crescita, se c'è, e il progresso, se c'è, io credo che debba essere di tutti. Ce lo ricorda la storia, paesi che sono nati costruendo grandi opere, parlo della Russia, di Stanley, no? Sulle spalle di milioni e milioni di persone ha creato una grande nazione. Il problema è che l'Italia, il mondo occidentale, la Lombardia, non può fare lo stesso. Crescita e progresso significa crescita e progresso per tutti, non solo per una fascia di popolazione. Per tutti chi? Cioè, chi sono i tutti? Nel senso che io so benissimo cos'è il reddito di inclusione. Chi risiede sul territorio italiano e ne ha diritto di risiedere, come chi risiede in Lombardia ha diritto di risiedere in Lombardia. Prima vengono gli italiani e non ce la facciamo a mantenere gli italiani, perché io ho il problema di ragazzi che hanno perso il lavoro ed avevano un lavoro a progetto. Io sto parlando di numeri, di cifre, perché altrimenti continuiamo a fare del populismo che non serva a nulla. Io non voglio fare del populismo, io voglio essere molto concreta. Io gli ho parlato di cifre, ma più concreto delle cifre non esistono. No, in quelle cifre non ci sono la concretezza di quegli italiani che hanno l'età. Chi trova un lavoro paga le cifre, paga le tasse. Chi trova un lavoro paga le tasse, ma a quanti noi che vengono Rom, a quanti clandestini noi paghiamo anche l'assistenza sanitaria che paghiamo noi italiani, con il nostro lavoro e sudore e molti si sono suicidati. Certo, molti italiani si sono suicidati perché non riuscivano a pagare le famiglie. Cioè, chi prende un impegno con delle famiglie? Ha sotto di sé delle famiglie, per questo io ho deciso di impegnarmi in prima persona. E chi è italiano e non ce la fa ad arrivare a fine mese perché ha un contratto progetto. Perché io devo dire, venite, venite, che qua trovate tutto. Abbiamo messo tutti, abbiamo messo tutti, ci sta dentro gli italiani. Tutti non ci sono, cioè, nei tutti, lei mette tutti, che sono un indefinito. Il tutti non è né uno né l'altro, ma sono i tutti, un indefinito. Faccio chiudere, ma Erba, il discorso perché poi a questo punto dei dati voglio darvi. Vorrei capire che i tutti, mi mette anche i clandestini, ma non va bene. No, io parlo alle persone, glielo ho detto prima, che hanno diritto di stare sul territorio italiano. E chi sono quelle che hanno diritto di stare sul territorio italiano? Ma guardi, mi scusi, c'è una procedura di gente che viene sul territorio italiano al quale noi paghiamo. Si mette a lavorare in questura, in prefettura, e decida chi ha diritto di avere asilo politico o meno. Lei non ce l'ha, io non ce l'ho. Faccio fare questo lavoro a qualcun altro. Ho parlato di gente che ha diritto di stare sul territorio italiano. E pochissimi, pochissimi, pochissimi ne hanno diritto vero. Ma non sono pochi. Cioè, pochissimi sono quelli che fuggono da una guerra. Abbiamo già la terza generazione di stranieri che vivono in Italia. Purtroppo sono i dati della prefettura. Parliamo di dati, allora vi aggiungo qualche dato. Perché? Lo leggete anche dal titolo. Migranti, meno sbarchi, ma per gli italiani è sempre un problema. Cosa succede? L'immigrazione incide appunto non poco sul nostro sistema sociale. Lo stiamo vedendo da discussione molto accesa. E giustamente molto accesa che sta avvenendo in studio. Perché gli aiuti appunto rispetto agli italiani e rispetto alle persone che stiamo accogliendo in qualche modo devono essere garantiti. Vediamo però il cartello numero 8. Migranti, lo Stato ha fallito, punto di domanda, questo ci stiamo chiedendo. E diamo qualche dato. Il 62% degli italiani hanno un giudizio negativo su come lo Stato abbia affrontato il tema dell'immigrazione. Il 27% sono quelli che invece hanno dato un giudizio positivo riguardo all'affrontare questo tema. Il 58% è la percentuale di chi crede che gli immigrati non vogliano integrarsi. Il 28% chi la pensa diversamente. Nello specifico c'è un 65% che pensa che invece l'immigrazione clandestina aumenterà. Il 20% pensano invece che in qualche modo diminuirà. Il fatto che però... I dati sono a favore di a me. Sì, però invece adesso mi tocca fare l'avvocato del diavolo che dice che però effettivamente i numeri però stanno diminuiti e sono diminuiti in qualche modo. Quindi come si riesce un po' a gestire questa diversità di dati? Miniti ha provato a fare un leggero all'inizio, ha cercato di avere un po' di coraggio e cercando di frenare quello che stava accadendo dove ogni giorno, da ogni dove arrivavano ondate e sondate. Ma adesso si sta ripetendo questa situazione. Cioè comunque il problema è che noi concretamente, le parlo, non sappiamo quanta gente è sul nostro territorio. Cioè non sappiamo quanta gente è nei famosi car o è fuori dai car. Perché poi tutta questa gente, come lei sa, passa da Milano, magari dalla stazione centrale e poi vuole andare in altre realtà. Non per forza si trova in Italia. Mi faccia capire le soluzioni. Il mio problema io glielo affronto. Io due settimane fa mi trovavo in via Verziere a Milano, Largo Augusto. Una persona non italiana, clandestina, ha preso un masso e l'ha tirato su una vetrina. A questo punto c'era gente che beveva il caffè, la vetrina poteva crollare. Per fortuna ne è crollata una parte esterna, era un vetro antiproiettile e non è successo niente. Però questo signore, cosa ha detto? Un signore marocchino ha detto, adesso io prendo il 12 e vado via. Tanto io sono clandestino, non mi fate niente. Cioè ormai c'è qualcuno che li educa. Quattro furti in una settimana da quattro italiani. Assolutamente, però degli italiani lei ha nome e cognome. E quindi la polizia può prenderli, le generalità li può mettere dentro. Invece questo clandestino diceva, voi io non ho niente. Il problema è che se tu non hai niente, le mie soluzioni sono innanzitutto sicuramente pene più certe e soprattutto educare i clandestini ad avere maggior rispetto quando sono nella nostra realtà, perché io vedo persone che continuano a non rispettare dai nostri mezzi pubblici. Io sono in zona rubattino a lavorare, non è che possa mentirle o dirle delle stupidaggini. Le dico, c'è gente che viene, siccome noi abbiamo vicino delle aree di parco, insomma, si spogliano la mattina, si lavano lì, fanno quello che vogliono. Quindi ha regole certe. Regole certe, pene certe, soprattutto per tutti. Sono d'accordo. Regole e soprattutto stai nel mio paese, tu mi rispetti, non metti i piedi in faccia. Cioè rispetto vuol dire anche non sputare. Quando io passo in stazione centrale, verso una donna. E loro, la cultura verso la donna, non ce l'hanno. Quindi non è un problema di chiudere le. Valerba, voglio sapere da lei che cosa ne pensa e quali sono eventualmente le sue soluzioni. Si fermano. Sì, 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 voglio dare l'ultimo cartello, lo leggiamo perché appunto è legato al... Non avendo una riconoscibilità, mi perdone, poi chiudo. Non avendo una riconoscibilità, a differenza di quello che... Non ci può essere la certezza della pena. Non ci può essere la certezza della pena. Allora, se sentiamo da Valerba se ha una risposta in questo senso, come si può eventualmente risolvere. Volevo farvi leggere questi ultimi dati, migranti più domande di asilo meno sbarchi, perché la risultante di una diminuzione appunto degli sbarchi è che effettivamente sembrano essere un po' di più le domande di asilo che sono state processate. 130.000 le domande di asilo presentate nel 2017 da chi è arrivato al nostro paese, 123.600 quelle presentate nel 2016, poco meno di 84.000 quelle nel 2015, 119.000 i disperati arrivati in Italia nel 2017. Quindi per la prima volta le domande di asilo hanno superato il numero di arrivi. Questo era per dare un dato in aggiunta e voglio sapere da Valerba una risposta. Io concordo sul discorso assolutamente delle pene certe, comunque che tutti chi non rispetta le regole deve pagare. Ma questo indipendentemente se è un immigrato o un italiano. Il problema è che questo discorso oggi in Italia vale un po' per tutti. Guardate, io credo che davvero, e ritorno sul punto, il problema vero non è un problema legato all'immigrazione, è un problema di percezione, di insicurezza che tutti noi abbiamo. E la insicurezza è un fatto... Non è un aspetto che abbiamo poco tempo, devo iniziare a... No, è un aspetto di cui i migranti sono solo una piccola parte. Sono solo una piccola parte. Noi riusciamo a sistemare il problema e riusciremo a sistemare questo problema in maniera seria solo se inizieremo a parlare di regole e solidarietà. Cioè se in maniera solidale riusciremo a far capire nel minor tempo possibile alle persone che decidono di venire a vivere in Italia quale sono le nostre regole. Molto chiaro. Ci fermiamo per un piccolo spazio pubblicitario. Rientriamo tra poco per chiudere la nostra discussione. Eccoci rientrati appunto, purtroppo ho stato qua a gambatese appunto interrotto a me per chiudere la discussione. Sì, io forse non so se lei lo sa ma mi sono occupata tanto a San Donato, in Anci con lo stesso presidente di Fontana della violenza contro le donne e siccome con l'amico Malerba si parla di problema culturale qua diventa sì un problema culturale ma quando tu sei clandestino sei più portato a delinquere per quello che dicevamo prima sulla riconoscibilità. In particolare la cultura sicuramente verso le donne che hanno queste persone è aberrante perché l'idea che una persona arrivi ad entrare in sala parto e violentare una persona che sta partorendo, secondo me ed è successo a Roma non è successo nel Burundi, ti fa capire che non hanno rispetto innanzitutto per noi come persone e poi soprattutto per un momento così delicato qual è il parto, cioè parliamo di futuro e poi non stiamo neanche a salvaguardare le nostre donne, il nostro futuro, cioè i nostri figli. Quindi io mi chiedo quando i gentiloni, quando Renzi sentono delle notizie così aberranti invece di mandare lo psichiatra d'ufficio, dare delle pene certe queste persone devono essere rimandate a casa loro con le dovute pene e in questo modo le assicuro che non avremo i gommoni pieni di gente perché io non è che vedo persone emaciate, distrutte, che arrivano dalla guerra abbiamo visto ad esempio la guerra dei Balcani dove arrivava in Italia della gente che era disperata e non aveva neanche più nessun senso ce lo ricordiamo è stato terribile, ma sicuramente io sono una che la solidarietà la dà, ci mancherebbe e se succede qualcosa a qualcuno la cosa che più combatte è l'indifferenza, ma quello che combatto ancora più dell'indifferenza è la cattiveria e la volontà di dire tanto io rimango impunito e ormai ce l'hanno dentro perché gliel'hanno insegnato il problema della solidarietà che dice, che è citata da Ame fa anche il paio con quest'ultimo dato che porto e poi chiudiamo la discussione perché Amnesty International ha fatto un rapporto ha pubblicato un rapporto, il giudizio sull'Italia per quanto riguarda la xenofobia e il razzismo è piuttosto duro ve lo cito, l'Italia è un paese intriso di odio, razzista e xenofobo che ha paura dell'altro e del diverso migranti, Roma, LGBT, ma anche donne e poveri si usa il linguaggio di ostilità, si parla di linguaggio che nell'8% di caso coinvolge anche candidati alle elezioni un giudizio magari anche su questo si è capitato è capitato credo ieri anche a una mia collega di lista di Castiglione dell'Estiviere di ricevere io ricordo solo una cosa e questo può essere un pochettino sintomatico di come questa campagna elettorale sia stata impostata da alcuni partiti del centro-destra, in particolar modo da alcuni io ricordo 30 anni fa, ma credo che chi ha la mia età se lo ricordi, quali erano i manifesti della Lega che erano appesi nelle nostre città che parlavano, se si può usare il termine via i meridionali il complotto terrone parlavamo di questo e io anche adesso c'è Matteo Silvini che ha remito su avete solo spostato l'obiettivo non siete incapaci non siete capaci di sostenere delle tesi se non attaccando e trovando un nemico laddove non c'è questo è il problema 30 anni fa erano i meridionali che facevano fatica a trovare a casa quando venivano nel nord erano i mafiosi, erano i delinquenti erano quelli che ci rubavano in casa oggi sono diventati migranti allora io non amo un minuto per chiudere io non amo i luoghi comuni le cose che si sono fatte come col presidente Fontana mi candido perché è una persona che è concreta e ha fatto tante cose concrete per la gente vedi Asilinido e vedi restituire le risorse ai comuni che lo stesso governo Berlusconi quindi il suo non aveva dato così dico Matteo Salvini Matteo Salvini ha avuto il coraggio ha avuto il coraggio ha avuto il coraggio Matteo Salvini di riunire l'Italia ma l'Italia è quella del bene cioè l'Italia a cui vengono buttate le arance in Sicilia per far spazio perché è un'Italia europeizzata purtroppo è sotto il dominio dell'Europa quindi viva la gente che ha coraggio come Matteo Salvini e lo dico da non leghista perché ha avuto il coraggio di riportare le cose le peculiarità dei paesi il pistacchio di Bronte e dire non deve essere sostituito dal pistacchio preso in Turchia cioè e viva chi chi ci difende i nostri prodotti e voglio dire la protezione sui nostri prodotti ma la protezione sulle nostre persone ma è viva chi ci protegge perché ormai veniamo calpestati l'Europa ci sta uccidendo come costi come prodotti ma perché io non posso pubblicizzare il mio olio e devo buttarlo via quando abbiamo gli oli migliori dal desenzano di Garda purtroppo per poter parlare anche di questo ma è un tema è un tema comunque importante ma chi porta su le peculiarità del sud e Matteo Salvini sta facendo vi devo purtroppo interrompere perché non ho più tempo per poter andare avanti con la discussione io saluto Stefano Maverba Obiettivo Lombardia per l'autonomia grazie mille per essere stato con noi e grazie mille all'aria a me lista civica Fontana presidente grazie ovviamente a voi mi associo per averci seguito vi do appuntamento giovedì alle ore 23 grazie grazie a tutti